Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ho segnalato un incidente avvenuto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. In A12 chiusa per lavori l'area di servizio di Castagnolo in direzione Livorno. Sulla Grosseto Fano chiusura delle rampe in entrata e uscita dello svincolo di Montagnano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Sud e San Casciano Nord in entrambe le direzioni. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per lavori nel tratto compreso tra Grosseto Est e Grosseto Sud in direzione Roma. Sulla statale Trebis Tiberina fondo stradale dissestato tra Val Savignone e San Carlo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!